Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ci troviamo nella Candy Craft perché tuttora non ho ancora internet Quindi mi raccomando lasciate un bel mi piace a questo video per supportare me e il mio canale Perché oggi abbiamo tante tante novità Prima di tutto, io sono andato di nuovo in miniera a prendere tantissimi materiali perché di recente me li avevano rubati Ma l'altro giorno ho trovato ben 37 smeraldi qua dentro e anche 3 di oro Perché mi ero completamente dimenticato di averli messi anche là dentro alcuni Quindi il ladro non ha rubato tutto quanto E adesso allora li andiamo a mettere nella cessa perché oggi, ve l'avevo detto ragazzi nello scorso episodio Costi qualche costi troveremo un libro ripristino, un libro mending perché devo assolutamente riparare il mio tridente Quindi come vedrete ho già trovato un bel po' di roba, ho trovato degli altri diamanti, un po' di ferro Ho preso dei blocchi d'oro anche dal nether e adesso abbiamo... Uh cavolo 58 smeraldi, beh 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 buono buono non male Ah eh sì nell'inventario come potete ben vedere ho ucciso... voglio dire ho raccolto un po' di pollo, un po' di carne E io non li ho mica uccisi, per quale motivo mi state accusando di certe cose crudeli e cattive Non le ho fatte io assolutamente E mi hanno dato anche tantissimi livelli ovviamente, ora vi faccio vedere c'è tutta la mia farm che praticamente ora è perfetta Non neanche... Giannicola Dove è andato Giannicola? No 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 no, fermi tutti Giannicola? È scappato È andato via, è riuscito a fuggire Ha trovato un modo per scapparmi No? Dov'è? Perché c'è un maiale là all'interno di una barca? Cosa ci fai tu? Scusa Ehi Ehi, hai visto un pollo di nome Giannicola? Maiale! Sì parlo proprio con te, sono qua Hai visto un pollo di nome Giannicola? Non l'ha visto Allora secondo me è nel recinto, può essere che si è messo dentro il recinto per mimetizzarsi con gli altri polli? Eccolo! È lui, è lui, ne sono sicuro Fermo Giannicola? Non sei Giannicola, quindi meriti di morire Ok, come vi dicevo qua ho ripulito tutto E adesso vado a trovare, se è qua dentro ragazzi è alla fine È come cercare un ago in un pagliaio, è impossibile Sono troppi Quello stupido pollo è riuscito a scappare Ma io lo troverò, non vi preoccupate Perché ha comunque il nome, quindi riusciremo sicuramente a trovarlo prima o poi Pinotto, hai per caso visto Giannicola? Vabbè, tieni, mangia, mangia Beh, in ogni caso oggi abbiamo veramente tantissime cose da fare Quindi lo cercheremo un'altra volta Giannicola La cosa importante è che mi avete insegnato tutti quanti a trovare un libro ripristino Anche se ci vuole molta fortuna E io intanto ho ripiantato tutto quanto qua per bene Ora dovrà ricrescere E mi avete detto di trovarlo assolutamente in un villaggio E per cambiare la professione dei villager Devo utilizzare il legio Quindi questo qua In questo modo i villager diventeranno dei biblioteca Non riesco a dirlo Vabbè, comunque inizieranno a vendermi i libri Quindi dobbiamo prendere degli smeraldi Cos'altro potrebbe servire? Biblioteca, biblioteca Vabbè, non ci riesco ragazzi Quindi forse ci potrebbero servire dei libri Ce l'abbiamo dei libri? Non mi dire che ho usato tutte le librerie No, 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 no Ce l'ho sicuramente dei libri qua da qualche parte, vero? Spero di non averli visti e non averli non visti Cioè spero che non erano tipo davanti ai miei occhi Però non li ho visti Quindi, no, dai Non ho nessun libro Ma questo è il magazzino più inutile del mondo Vi giuro ragazzi che tra qualche giorno Lo sistemo e metto il magazzino grande qua sotto Ancora non l'ho completato Non c'ho voglia Lo faccio un'altra volta Però vi prometto che lo farò Prima o poi lo farò Vuota E quella? No Ok Bene Quindi dovremmo fare degli altri libri Come si facevano dei libri? Mica mi ricordo io Allora serve della candela a zucchero Libri, libri, libri Candela a zucchero Quindi carta e cuoio Beh, cuoio ne abbiamo un bel po' Ci serve della carta Per la carta dobbiamo prendere le candela a zucchero Io dove le avevo messe le candela a zucchero? Andiamo alla ricerca Il maialino è ancora qua sotto, vero? Sì Maialino d'acqua è ancora dentro l'acqua Perfetto Le candela a zucchero io dove diavolo le avevo messe? Forse le ho in magazzino Quelli sono bambù Quindi non c'entrano nulla Il bambù purtroppo non ti dà della carta Bambù, bambù, bambù Ecco le candela a zucchero Beh, non sono molte in realtà Però ce le faremo abbassare Ah, in più ragazzi Ho aggiunto Indistruttibilità 3 Al mio tridente Così da renderlo un pochettino più potente E adesso credo sia arrivato il momento Di andare alla ricerca di un bel villaggio Perché devo fare cambiare la professione A tutti quanti i villager Io ricordo che il villaggio era più o meno da quelle parti Quindi facciamoci una bella camminata E se dovessimo avere sfortuna con il villaggio Possiamo anche cercarlo In uno di quei tesori nascosti Tra l'altro ho anche bisogno di quei tesori nascosti E vi spiego subito perché Perché Emerald Ha mangiato la mia mela d'oro OP Quella mela d'oro infatti Io se non mi ricordo male L'avevo trovata proprio in un tesoro nascosto Di quelli sott'acqua Mi sa che là non ci sono più i villici Sono stati cacciati via tutti Qua c'è la costruzione più strana del mondo Che non ho fatto io ragazzi Non mi sono svegliato pazzo una notte E mi sono messo a costruire un'isola volante E così E là c'è anche un portale Tutto ciò è molto sospetto Io non ricordo neanche quando ho costruito questo portale Non ricordo neanche se sono stato io a costruirlo Ok ecco i villici Però questi sono i villici vecchi Di prima dell'1.14 se non sbaglio Quindi loro in realtà Non mi servono a niente Ora vediamo però Vediamo se riusciamo ad averne conferma Quindi prendiamo subito i nostri leggi Lui è tipo intrappolato là sopra Che cavolo ci fai qua Vediamo se riusciamo a fargli cambiare professione Vai Leggi Leggi Oh ha cambiato Tocco rivelluto Tocco rivelluto è buonissimo Ok tocco rivelluto ci serve ragazzi Tocco rivelluto ci serve È un ottimo incantesimo E conviene assolutamente tenerlo Quindi sapete che facciamo ora? Io ti blocco là dentro Tu resterai prigioniero Sei mio prigioniero d'ora in poi Abbiamo bisogno di un po' di legna Vediamo se mi darei prissino Ti prego lo cerco da anni È l'unico libro che mi serve Dammi ripristino dai Indistruttibilità 2 Va bene niente di che Niente di che Non lo utilizzeremo Anzi ora mi riprendo pure il legio ragazzi Non lo voglio di certo sprecare su di lui Tocco rivelluto è buonissimo Ci serve e lo prendiamo molto volentieri Allora visto che comunque abbiamo trovato Tantissime cannele a zucchero Possiamo fare anche tantissimi altri libri Io non rischierei Per adesso ne prendiamo uno E poi se ci dovesse riservire Torniamo qua Tanto lui resterà prigioniero lassù Cosa pensi di fare? Vuole scappare Vuole scappare ragazzi Guardatelo Oh mio dio non ci posso credere Sono intelligenti allora Hanno anche loro un mini cervello Non scappare per favore Dammi un tocco rivelluto Ottimo Cavolo me ne posso prendere quanti ne voglio Ehi bravo scendi Bravo 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 Adesso io ti blocco qua Per l'eternità Tu non potrai mai più scappare Sei il mio prigioniero In realtà ragazzi lo devo fare per forza Però vi posso assicurare che verrò tutti i giorni A dargli da mangiare Non è vero niente Non ci crede nessuno Verrò tutti i giorni a dargli da mangiare E da bere Così che non disponerà mai E lì tra l'altro lui è al sicuro Così almeno ragazzi non rischia la vita con gli zombie Quindi è proprio nel posto perfetto In un paradiso di posto Tutti gli altri villager Mi sa che o li ho uccisi O sono scappati Quindi facciamo che adesso Troviamo un nuovo villaggio Oh e tu chi sei? Eh che cosa ci fai qua sotto? Tutto sto rosoletto Tieni Impara a leggere Perfetto Cosa mi dai? Eh che schifo Ma che schifo Scusami eh Non ti do 9 smeraldi per una libreria Oh ma là ce ne sono ancora tantissimi Fermi un attimo Ma cosa pensate di fare eh? Tieni Impara a leggere Tu pure impara a leggere Ok vediamo cosa dai Protezione 3 Eh quanto vuoi? 38 smeraldi Se Sogna Forse è perché l'ho appena ucciso Che è diventato più caro Bene Stiamo imparando tante cose nuove ragazzi Io non avevo mai commerciato con i villici Beh Non mi c'è voluto molto Ok ne abbiamo trovato un altro Ma è semi distrutto Che cosa è successo? Credo sia passato qualche zombie Guardate quella casa è completamente distrutta Tu cosa pensi di dormire eh? Qua non si dorme Chi dorme non piglia pesci E soprattutto chi Ti ho detto chi dorme non piglia pesci Impara la nuova professione Ehi dove vai? Ehi Ehi Facciamo che salviamo un attimino il villaggio da questi zombie E poi insegniamo la professione Allora stavolta non faccio lo stesso errore di prima Vi blocco l'entrata No 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 Ok Lui sta imparando Non ha imparato un bel ciuffolo di niente Mettiamole un'altra per lui Dai impara qualcosa Cosa mi dai? Passo gelato 2 Questo è buono Però 52 smeraldi A parte che non ce li ho Ma 52 smeraldi figlio mio Sei carissimo Ci saranno degli altri villager un pochettino più svegli di quelli no? Tu Buongiorno Flaggello degli No che schifo dai Vengo a regalare lavoro a tutti Sì però Ho detto Ok Ho detto Chi dorme non piglia pesci Ah sono in due Ecco perché Via E via Studiate No 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 Ma perché scappano? Perché scappano? Ah ma quanti sono qua? Eh che c'è? Una festa? Cos'è un hotel? Sveglia e sveglia ho detto Ora mi blocco pure la porta Ok Tu sei diventato qualcuno Niente Beh ho proprio l'impressione che questi villager non mi vogliano aiutare per niente Ma che c'è qua dentro? Ah sono intrappolati però Oh c'è un veliero sott'acqua O almeno credo sia un veliero Sì dovrebbe essere un veliero sott'acqua Vediamo se riusciamo a trovare una mappa del tesoro ragazzi È da tantissimo tempo che non faccio un'esplorazione sott'acqua Sì 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 Oh è bellissimo tra l'altro È tutto intatto Ok vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di utile Eh niente di buono C'è della sabbia che nasconde la cesta con Oh mio dio Ok 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 facciamo così aspettate La spazzatura la buttiamo qua dentro Ci prendiamo questo Ci prendiamo questo Ci prendiamo questo Ci prendiamo anche questo Oh piccole tartarughine ciao È da tantissimo tempo che non vedo le tartarughe È qua che succede? Sono dei bug di gioco Ah sì sono dei bug di gioco Ok infatti Stavo per dire Oh ok Nuovo villaggio Questo sembra un villaggio molto nuovo Mai esplorato E dove sono però i villager? Allora Qua chiunque ci abiti Non mi importa Rimpiazziamo il tuo lavoro con quello nuovo Sì adesso siete tutti dei bibliotecari Anche questo Via tutti i bibliotecari Ma ci sarà qualche villager qua no? Oh eccoli Ok li vedo perfetto Ce n'è anche uno piccolo Oh mio dio quelli piccoli non li vedevo tantissimo tempo Ok Qua cosa gli devo togliere? Questi forse? Tu dove pensi di scappare che sei piccolo? Oh mio dio Ma io posso commerciare anche con i piccoli? Tu cosa hai? Indistruttibilità 3 Eh ma costi 38 Smeraldi No Ho bisogno di roba migliore Non mi serve indistruttibilità Ci sarà qualche villager fortunato Che mi da questo cavolo di ripristino Lo aspetto da una vita ormai Ok 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 Molti di loro hanno imparato la nuova disciplina Indistruttibilità 3 No non mi servi Tu cosa dai? Fortuna del mare 3 Non mi serve però buono Io devo togliergli tutto il lavoro che hanno loro qua E rimpiazzarlo con il mio Che vi piaccia o no ragazzi Ora avete una nuova professione Non ci posso cre... No mi è uscito Infinity Conviene comprarlo? Cavolo ragazzi mi viene a costare tantissimo Poi mi restano solo 18 smeraldi Mio dio però Infinity è un ottimo incantesimo Considerato anche che il mio arco si sta rompendo Però aspetta se io nell'arco poi ci metto Mending Lo posso riparare Quindi non mi servirà più un altro Infinity Perché io già l'arco ce l'ho con infinità E allora no Oh mio dio Ok l'ho trovato Non ci posso credere l'ho trovato Quanto costa? 36 io ne ho 36 perfetti 36 Ripristino ragazzi Mending Fermi tutti Fermi tutti Io adesso ti blocco qua No 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 Dove pensi di andare? Fermo 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 No Torna torna in casa Io ti seguo ora Fin quando tu non torni in casa io ti seguo Porca miseria me lo vorrei portare a casa Come faccio a portarlo a casa? Posso? Se faccio tipo una barca Dove è andato? Ehi dove pensi di scappare? Ok Entra nella barca? Entra? Non tu Subi la mucca Entrato? E' lui? No Non tu Non uccidiamo No 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 Fermo 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 Ora me lo fa pagare un casino Ora me lo fa pagare un casino 64 Oh mio dio Oh mio dio Ok non importa Non importa Non importa Non importa E' tutto ok E' tutto ok Dove è andato? Ehi Ehi piccino Prima o poi ti passerà la rabbia no? Del fatto che ti ho attaccato Oh Ok Adesso ragazzi non devo far altro che portarlo a casa Sarà Oh 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 Perché mi attacchi? Che vuoi? No 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 Ok facciamo così Io lo lascio qua Lo lascio dentro la barca così non può despawnare Mi salvo le coordinate E adesso torniamo a casa Oh cavolo Bene Siamo riusciti finalmente Dopo tantissimo tempo A trovare un libro ripristino In più abbiamo anche tocco di velluto E perforazione 2 Non male Adesso non ci resta che tornare a casa E metterlo finalmente sopra il tridente Finalmente sono riuscito a trovare Il libro ripristino Ripristino Mettendolo qua dentro ragazzi avremo lealtà 3 Indistruttibilità 3 Ripristino E adesso Non mi resta che far armare tanti livelli Per poi ripararlo una volta per tutte Cavolo Finalmente Ci ho messo ben 3 video A rendere questo tridente il migliore del mondo Ma io adesso sono curioso di una cosa E se si rompe giuro che impazzisco Se io rompo Cioè se io ammazzo le mucche e le pecore Col tridente Loro mi danno comunque livelli Quindi dovrebbe Andare bene no Ti prego non romperti Ti prego non romperti Mi stanno dando livelli Quindi ora tu Ti ripristini no Dovrebbe funzionare così Si sta ripristinando Non ne sono sicuro Si si sta ripristinando Si sta ripristinando ragazzi Mi sa che sta funzionando Si Si sta riparando Non ci posso cadere Non ci posso Ok si In realtà sto uccidendo tantissime mucche Per niente Quindi facciamo che adesso la smetto Ammazziamo i polli ecco Che loro sono più cattivi Bella faccia non guardare questo video Mi raccomando Oh mio dio ragazzi Si sta rigenerando Si sta rigenerando Sta funzionando l'incantesimo ripristino Finalmente abbiamo trovato Mending In realtà abbiamo trovato tantissimi Villager super fortunati Cioè abbiamo fatto dei commerci Super super ottimi Con 50 in totale di Di smeraldi Abbiamo trovato ripristino Tocco di velluto E perforazione 2 Beh ragazzi direi che questa missione È stata un successo totale Voi lasciate tanti Ben mi piace Perché io ho registrato per più di un'ora Per trovare quel cavolo di libro Ripristino E per fortuna abbiamo anche salvato le coordinate Quindi la prossima volta che avremo tanti smeraldi Andremo a prendere degli altri Libri Mending Così da poter riparare tutto quanto il nostro set Perché Si Mi servirebbe ovunque in realtà Dal vostro channel è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao